Musica Torniamo ad ascoltare Abby, vediamo cos'altro c'ha da dirci Prendiamolo lo nastro per rosa e torniamo al top of the world Al top of the... the world Scusatemi Prima però dobbiamo riparare questi rilevatori di ardenti La gioia mi pervade Eccone uno I prossimi dove sono? Inchia, un po' lontani eh Alla faccia del lontani Uno è qui alla diga Uno è qui sulla strada, un altro qui sulla strada e un altro qui ancora sulla strada Praticamente mi faccio tutta sta strada e ci arrivo piano piano Vabbè, ho capito Quei tizi sembrano abbastanza pericolosi Quindi eviterò il contatto con loro Merda, mancavano solo le zanzare Quante radiazioni ste maledette Ma che veramente 30 radiazioni? Ma santo cielo Siamo vicini al primo obiettivo, dai È già qualcosa Eccolo qua Tieni Potenziati E sii felice I prossimi sono tutti e tre lontani e non ho neanche un punto vicino per avvicinarmi Perfetto Vedi cosa succede a costruire in mezzo alle paludi? Che poi la terra sprofonda e tutto si smerda Minchia che colpo Buongiorno a lei Come sta? Oh, i vermi radioattivi Merda Ma perché ste situazioni sempre del cazzo finiscono a me? 50 di radiazioni Dio mio Porca troia E niente Finisco sempre le munizioni nei momenti più sbagliati Tieni Prova a prendermi se saltello Stronzo La tua intelligenza artificiale lascia un po' desiderare Beccati sta granata, maledetto Stronzo Adesso ti devasto Vedi? Cosa fa? Saltella Beh certo, dice Puoi farlo tu e non lo posso fare io Dai, vieni Dove stai? È scomparso Dove è andato? Eh no Adesso è una questione personale Fra me e te Non te ne scappare Non puoi fuggire Dal mio massacro ora Bastardo Guardalo che scappa Ecco fatto Volevi fuggire Volevi fuggire Dopo che mi hai attaccato Può essere Può essere Che sono quei? Ah super mutanti Super mutanti contro le aquile Potevo farmi bellamente i fatti miei Avrei potuto E non sarebbe successo E non sarebbe successo nulla Lo faccio solo per i livelli Lo faccio solo per i punti esperienza Merda Ho attaccato Il nemico Il nemico sbagliato Anche io ti ho trovato Anche io ti ho trovato Ma pensa te Si sono ammazzati tutti a vicenda E chi è che ha vinto alla fine? Io Ah Sono come sempre pesante Però qui c'è Un po' di casette Magari mi va di culo E trovo qualche tavolo Per smaltire un po' di roba Merda Mi son curato preventivamente Però Cacchio Poteva finire veramente male Per fortuna Non troppo lontano da qui C'è un camp Magari lì posso smaltire un po' di roba Dai Sarebbe molto utile No ti prego E là sopra No devo farmi Ti prego Dimmi che c'è un punto In cui posso salire Facile No vabbè Ma che sfiga c'ho io C'è un deadclo lì Ma vaffanculo La casa del tizio è là sopra Ma non vedo un modo per salire Quello È Mothman Oh ma che sfiga che c'ho eh Deadclo Mothman Tutti oggi La battle royal c'è Mi guarda anche Guardalo Spero che il deadclo arrivi Ti ammazzi C'è un segugio super mutante Non c'è più il segugio Però non vedo Uh 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 Attenzione Fermo Fermo Eh Non è morto Volevo colpirlo in testa io Dai Dai che ti manca poco per morire Ecco fatto Cos'è Ho visto un giocatore saltare Se c'è un giocatore che salta vuol dire che sta uccidendo tutti Se lui sta uccidendo tutti vuol dire che non sono concentrati su di me E che soprattutto sta liberando la zona Ma perché devo sempre saltare in aria io Credo sia il giocatore di prima quello lì Sì si chiama Sam B Ed è a livello 400 Buongiorno anche a te Oh Ad victoria manca te Tanto carucci alcuni giocatori Mentre altri arrivano e ti sparano a vista Molto simpatici quelli tra l'altro Ibot No Perché Perché oggi mi va tutto così male Eh Mi si è anche rotta Un pezzo dell'armatura Fantastico Ah Di bene in meglio Oggi Crepa Stronzo Ecco fatto Gli altri Sono scappati Buon per loro E con questo Quello è un tizio morto Siamo A 4 Finalmente Ecco te Ne manca solo uno E credo che quello sia un red rocket Ti prego fa che sia così Almeno Almeno cazzo Riciclo tutto quanto Floater Oh che gioia Floater 1 2 E 3 Perfetto Le super chicche sono arrivate Eh Che gioia eh Non l'ho neanche ucciso Dai Vieni qua Quello di livello 50 Porca proia Merda Quello di fuoco spara Ok Quello grosso è andato Almeno uno Tu sei pericoloso Tu sei pericoloso Uff Cazzo Quello più pericoloso È quello di ghiaccio Secondo me Perché ci rallenta Almeno quello lì verde Era solo Altamente forte Aspetta Magari c'aveva qualcosa di utile Vediamo eh Sac No Niente di utile Sta scappando Dove vai? Dannazione Spero che almeno Quello di livello 50 Avesse qualcosa Eh eh Qualcosa ce l'aveva dai Speriamo che red rocket Ci sia un tavolo da lavoro Eccolo lì di nuovo Quello di fuoco Oh E non c'è più quello di fuoco Fantastico C'è il mio deposito Ma Ti prego A me serve un tavolo da lavoro Una Una power armor Beh è qualcosa eh È qualcosa Ed è di livello 30 E posso usarla Attenzione Prima di poter Fare qualsiasi cosa Prima ricicliamo E togliamoci Tutta la roba pesante Allora Io non so se prende Quest'armatura Però tecnicamente Se prendo solo il telaio Cioè Ci entro Me la metto nell'inventario Mi pesa tutto 10 È una soluzione Perché adesso Se io entro Nell'armatura Mi toglie lo zaino Però siamo ancora Abbastanza Leggeri Da poter portare Della roba Ok Facciamo così Esco dall'armatura atomica Aspetto che mi rientra Dentro l'inventario E la mettiamo giù Uh Il tavolo delle armature Perfetto Mi si sta per rompere tutto E la mia armatura Mi è ritornata Nell'inventario Ottimo Perfetto Tieni Tieni Entra qui Oh E siamo già A tre armature atomiche So che è inutile Averne tre Però Tecnicamente È il modo più semplice Per Ammortizzare Il peso Delle armature Perché Se mettessi pezzi singoli Peserebbero singolo Se metto tutto il telaio Con tutta la roba Pesa solo 10 Che per carità Peso 10 È comunque tanto Eh Però Sempre meglio Che avere Il peso di 30 Di un solo pezzo Guarda La mia speranza È che Visto che abbiamo già Parlato con Rosa Al tempo La missione Sia Non dico semplice Ma che proprio Mi dica Ah se di nuovo tu Senti Ascolta Visto che abbiamo Già fatto Abbiamo Eh Vai Per favore E Fai Cioè proprio Della serie Non c'è bisogno Che fai nient'altro Per me Cioè Alla fine Sto robot Mi deve un favore No? In qualche modo Ho riportato i predoni Nella palacchia Cazzo Il che non so Se è un bene Però Ed ecco qui L'ultimo rilevatore Vaffanculo Oh Finalmente Consegna L'olonastro A Rosa Va bene Il Top of the world Vai Teletrasportati E non mi rompere il cazzo Ehi Stronzo di un robot Sono tornato Sei contenta Di rivedermi? Allora Non ho potuto fare a meno Di sentire E devo ammetterlo Mi ha impressionato Quel che hai fatto con me Eh lo so Per me Gentile Da parte tua Prego Guarda Spara tro dritto nel cervello Vai vai Ascolta sto cazzo Di olonastro Questo è vero Anche se li ho già riportati qui La vita Ed è sopra Un vantaggio Che faccio una proposta Il consegno di collegamento Lo vendo io E fai tutto tu? Lo colleghi? E vi ha legato Delle istruzioni Su come installarlo Perciò non devi Preopoparti Yes Grazie Rose Oh Finalmente Ovviva Eh Eh Brava Rose Esatto Eh lo so Lo so stronzo Comunque Grazie per l'aiuto Eh Dopo tutti i favori Che ti ho fatto Io sono in debito Io Eh certo Come no Eh lo so Oh Finalmente Rose Spero di non rivederti Mai più No non è vero Ti voglio bene In un certo modo Non so quale Però in un certo modo Ti voglio bene Abby Spero che questa sia La fine di questa missione Mi hai capito Abby 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 Oh Ti prego Dimmi che è finita Missione iniziata E vai Ti prego Dimmi che è completata Sulla mia scrivania Cerca l'olonastro Chiamato Mapper Ti fornirà tutte le informazioni Lecce Ma Che cacchio Sto posto è pieno di scarafaggi Ehi Dov'è Granata Frammentazione Mirv Minatomica Devi ascoltare una mia Registrazione Assicurati di poterlo fare In sicurezza Siamo Fugiti da Arpers Dopo un attacco Abby Abby Perciò non so Cosa potresti trovare Abby Ti odio Abby Sto solo facendo un favore A una ragazza morta Io Questa c'è Sì 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 Sì